a voi è che mi prendo un anzi a pinnacoli che c'è un lama qua ricordiamolo su test alture kids quante ore ai su sto gioco saranno quasi mille ma come è fatto a fregarmi la pistola ma lo devi spammare e c'è uno qui è pieno ragazzi ci sta leggermente cioè ci sono leggermente suoni pagati ma ma certo che andiamo a vivere a romix raga con i miei di hobby da 10 minuti a romix senza alcun problema no problem bro questi scudini ragà sta scendendo uno è morto ore che morto grazie ragazzi uno sopra questo palazzo è morto adesso asserato mamma mia airbox è un buffo infatti il nome loro è ks ma io mi aiutato ma io mi aiutato no 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 kill steal e lo dico io bro ok cazzo perché mi devi dissata ogni volta ti direi che c'ho medica e uno scudino no no io la surf apposta vabbè questo medica conservo per dame a grazie se tanto sapete che la mia vita va sempre low sotto camion ok ma facendo ma che cazzo penso sia morto tieni 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 ragazzi sorry l'ho sentito penso sia morto è bellissimo ragazzi che abbiamo trucidato sta gente comunque c'era uno su quel palazzo dove stavamo prima eh vabbè sarà morto l'ha guardato boom esploso è molto probabile no aspetta vedo vedo muoversi ancora qui eh vabbè sarà il corpo sta bruciando lo spirito tipo le lucertole quando muoiono la cuota si muove ancora così ne sai tante eh damia che ci fai con le lucertole damia non mi metta al culo bro questo è facile oh tra dei cildini finalmente cimbo vediamo se hanno preso il lama di quello che abbiamo visto dov'era eh no non l'hanno preso eh l'hanno avanti a me ah ok eh ci avevo un pompa una volta vabbè ho lasciato un pompa in giro vabbè veduto se me lo puoi lasciare grazie tiè 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 andiamo andiamo arrivo arrivo sto dietro a voi raggiungo firebox tiè raggiungo no no vai poi prenderlo l'oro di materiale vabbè tanto quando raggiungo parto hai capito che ci sono nemici non so se si sente l'odore tipo di squali ho visto uno su desto dentro dusty è esploso ragazzi est due ho vissuria si si eccolo eccole qui preso una morto sono un team eh morti ma che cazzo è successo ma vabbè l'abbiamo distrutti proprio io intanto arrivavo tranquillamente in corsa poi tanto hai fatto un team non c'è l'ansia però fai a far vieni qua grazie io non ho fatto un cazzo sta partita sta guardando a poca giocata raggiungo ma qual è il tuo quanto è il tuo record di win streak in squad boh 18 è poco quello volendo ti si effetti c'era era voluto comunque il record c'è no no a posto a posto alla cazzo e ragazzi a voi vi si addormenta mai il mignolino quando premete troppo il tasto corso no abituato destra a me la palla destra bro ma perchè ma sto troppo seduto ah ok qui non c'è chi no ma prendi tu prendi tu bevilo bevilo direzione stai lagando bro stai lagando ah ok li ho visti 30 preso sto facendo il tumore ok l'ultimo manca ok su un altro pia ro è morto dietro scudini li avete ma quanto cazzo mamma mia che pezzo l'ho tirato di certina ma gg una buona se fa ho visto il posto su instagram rekin se le scudini o scudini scudini dieci scudini la scudini ma un napolatane l'ho che deve aspirare ssh 3 30 3 30 questo qua grazie 5 buona penso che ci siano altri più in fondo si 3 30 però si si cecchini cecchini attenzione si si è pieno ecco visto ma da allora sono in 2 a 3 23 uno è sotto e uno è sopra bro diventa ingestibile se questi mi sparano con la minigun ma hai uno a terra poi mi ha fatto una figlia bro aiuta reggings io vi guardo con la terza persona aspetta uno sta avanzando lo vedo lo vedo lo vedo uno c'è morto praticamente è low è low questo eh uno è morto zitto e uno sotto uno è sotto ragazzi uno è sotto uno è morto info ragazzi non sa che c'è stata safe sennò moro non ce la faccio bro eh non ce la faccio però io ci provo eh fa arrestare lui eh devo aiutarli cazzo aiutati il compagno cazzo dove figa stanno si qua ah l'ho visto morto beh andate andate tranquilli buona e io gioco così urlando tranquillo no no 2 hp ho un falò poi da darti mi spiace per da me ma ho fatto il possibile no ma che tranquillo ci mancherebbe fai fai giocato giocato hai materiali? ehm si tieni pure questi avanti a noi se ho visto bene si dietro l'albero cazzo bro morto tutto veloce tutto veloce nulla c'è un falò eh lo vuoi? ehm si mettili vieni con le due hai ragione non ho spaccato un albero se ho visto bene una ovest credo non so o sto dormendo ma hai fatto 12 kill dei fire? si il game della vita hai fatto beh mica tanto quello di prima era il game della vita quello di prima era il game della vita ma mori da coglione ancora te lo sei è ovvio ma è dietro dietro due ho sparato per sbaglio porco su due due tre uno è morto da solo ma che cazzo si fa? ma perchè non prendo più danno da caduta? ormai sto gioco vado a pusha quello sopra tutto morto morto bullato via muore jumpato ah non sei tu no 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 lui è già andato sta qua sto venendo raggins una salute per raggins ma vabbè buona ma quanto cazzo? ma voglio wow bella bella mamma mia bella bella reghe bella reghe bella reghe bella reghe bella reghe bella reghe che Grazie a tutti